le cosiddette 503. Nascono ovviamente due tipi di Dima, una per il posizionamento di una scatolina e l'altra per il posizionamento di due scatoline, con lo stesso semplice montaggio della prima, basta schiacciare la lettina e mettere dentro le scatoline. Tutte e due nascono per il montaggio sia filo muro che filo entonaco. In questa posizione in cui è, sarà il montaggio filo muro. Se io voglio il montaggio filo entonaco, basta girare le scatoline da questo lato e riportarle in questo modo. Adesso praticamente poi lo facciamo vedere. Si mette in bolla, si può lasciare qualche minuto oppure si può anche togliere subito. Adesso, con l'esempio gengetto, sfideremo la Dima per il posizionamento filo muro e vedremo le cassette perfettamente in linea e con lo spessorino dicevo che andrà a fare in tolaco. adesso faremo vedere il